buongiorno vediamo oggi cosa ci dice l'oroscopo ariete in amore guardate avanti e non voltatevi assolutamente indietro fate tutto come se il passato non esistesse toro oggi non è proprio una giornata in cui fila tutto liscio piccoli contattempi gemelli avrai delle sensazioni strane soprattutto in amore resta tranquillo perché sono solo sensazioni cancro lasciate perdere una situazione che potrebbe rivelarsi pericolosa non avete bisogno di altre complicazioni in questo momento leone oggi la luna vi farà sentire forte la voglia di divertirvi e distrarvi vergine l'amicizia si va rafforzando e potreste trarre profitto anche per il vostro lavoro o attività piccole entrate bilancia giove aiuterà alcuni concedendo la fortuna quindi sarà bene almeno tentare qualche gioco sempre però moderatamente scorpione sarai bravo svelto e fattivo buona intesa invece con un vergine ed un acquario sagittario la calma è la virtù dei forti e non a caso voi l'avete quindi state calmi e cercate di ascoltare più di dare la vostra opinione capricorno un'amica che non sentivate più da tempo potrebbe ritornare nella vostra vita accoglietela con garbo acquario state facendo la cosa giusta non tornate più indietro ve ne pentireste pesci i tuoi giudizi e le tue intuizioni saranno ottime prendi decisioni importanti eventi improvvisi questo è tutto al prossimo appuntamento coloroscopo